Pace tra i cristiani, cura e salute per la casa comune della terra. Due pensieri hanno reso intenso il post angelus di Papa Francesco, che riferendosi anzitutto alla conferenza sul clima in corso a Parigi, ha lanciato un nuovo appello augurio. Ogni sforzo dei partecipanti al vertice, ha detto, dovrebbe essere rivolto ad attenuare gli impatti dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo a contrastare la povertà e a far fiorire la dignità umana. Chi prenderà delle decisioni a soggiunto, abbia il coraggio di tenere sempre come criterio di scelta il maggior bene per l'intera famiglia umana. Il secondo pensiero è stato per l'evento che esattamente 50 anni fa, il 7 dicembre 1965, vide la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli cancellare, alla vigilia della conclusione del Vaticano II, le reciproche sentenze di scomunica emesse al momento dello scisma mille anni prima. È davvero provvidenziale che questo storico gesto di riconciliazione, che ha creato le condizioni per un nuovo dialogo tra ortodossi e cattolici nell'amore e nella verità, sia ricordato proprio all'inizio del Giubileo della Misericordia. Non c'è autentico cammino verso l'unità senza richiesta di perdono a Dio e tra di noi per il peccato della divisione.